Buongiorno a tutte, adesso parliamo di un prodotto per unghie. Andrea Fullerton, le pene per fare la Nail Art. Queste sono vendute dal Sepora. Quando l'ho presa io erano in offerta 10 euro, cada uno durante il periodo natalizio. Questa è quella argento. Ovviamente la prima volta che la si usa dovete sempre premere e aspettare che scenda il colore. Infatti per ora adesso non scende niente. Io ho provato a fare un cuore con questa. Come vedete la punta è sottile, potete tranquillamente fare le decorazioni. Solo che io sinceramente non riesco a fare le decorazioni con la sinistra, usando la sinistra sulla destra. Con la destra riesco a fare tutto con la sinistra. Comunque questo è quello che ho cercato di fare, anche se è un cuore abbastanza scorbio. Gli altri colori sono questo, che è un rosso fucsia. L'altro colore è il nero. Come vedete la figura vi indica che ci potete anche scrivere. Quindi potete fare un sacco di nail art con questo prodotto. Poi abbiamo il bianco. E abbiamo l'oro. Ovviamente secondo me servirebbero anche altri colori come il blu, il verde. E così perlomeno uno ha fatto tutto. E soprattutto si può fare tutte le decorazioni. Se ti vuoi fare una foglia come fai? Le foglie sono verdi, come fai? Vabbè questa è una piccola divagazione.